La nostra preghiera oggi è soprattutto per la città di Roma, per il suo benessere spirituale e materiale. Papa Francesco all'Angelus in piazza San Pietro ricorda la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città, e la loro testimonianza di vita sigillata col sangue. Fede e carità, afferma, sono l'eredità di Pietro, che per primo credette, e di Paolo, che annunciò alle genti nel segno della carità. Accanto a loro, sottolinea il Papa, c'è Maria, immagine vivente della Chiesa. Sono loro i compagni di viaggio, nella ricerca di Dio e nel cammino della fede e della santità. Ricordando poi la benedizione dei palli degli arcivescovi metropoliti, stimolo per un sempre più generoso servizio, il Papa sottolinea la presenza alla Messa in Basilica Vaticana della delegazione del Patriarcho Ecumenico Bartolomeo I. Questa presenza evidenzia il segno dei fraterni legami esistenti tra le nostre Chiese. Preghiamo perché si rafforzi tra di noi il cammino dell'unità. Dopo l'Angelus, Francesco ha ricordato il suo prossimo viaggio in Ecuador, Bolivia e Paraguay, in programma dal 5 al 13 luglio, invocando preghiere e l'intercessione materna di Maria. Grazie. 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 Grazie.